. Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Stefania Orlando si è mostrata senza veli, o quasi, in una foto che mette in evidenza la sua bellezza mediterranea Il pubblico è letteralmente impazzito, ecco lo scatto che sta facendo il giro del web L'attrice ha incantato tutti i fan con uno scatto mozzafiato in bikini che lascia intravedere le sue forme super femminili Scopriamo le immagini inedite di Stefania Orlando, che nelle ultime ore stanno stregando il pubblico affezionato all'attrice Stefania Orlando senza filtri incanta il pubblico.L'attrice Stefania Orlando è diventata uno dei personaggi femminili più famosi dello showbiz dopo aver recitato nei cast delle fiction di maggiore successo del palinsesto televisivo italiano Senza dubbio la serie tv Don Matteo, nella quale ha recitato nel 2008 e la più recente Il Paradiso delle Signore, a cui ha partecipato nel 2019 le hanno regalato un'enorme visibilità ma la verità è che la bella artista italiana era già amata a partire dai tempi del suo debutto come valletta di Claudio Lippi nel celebre formato sì o no? Oltre alla carriera dietro la macchina da presola Orlando ha percorso anche la strada della musica Difatti con la sua ultima canzone intitolata Bandolero è riuscita a conquistare un grande riscontro da parte del pubblico appassionato al genere pop, e anche ottimi risultati in termini di ascolti È conosciuta anche in veste di conduttrice, perché è stata spesso al timone di programmi tv di successo tra cui la vita in diretta, il grande fratello Vip Senza dubbio piccola parte del suo successo è dovuta anche alla bellezza magnetica che da sempre ammaglia il pubblico Nelle ultime ora proprio con le sue curve da sogno ha lasciato tutti i fan senza parole La foto che ha lasciato senza parole i fan.Nelle scorse ore il pubblico che segue Stefania Orlando attraverso il suo canale ufficiale di Instagram non ha potuto fare a meno di notare, e soprattutto di apprezzare, alcune delle stupende immagini inedite che la celebre attrice a conduttrice tv ha condiviso su un noto social fotografico Stefania Orlando infatti, si è fatta scattare una foto di grande effetto che la ritrae avvolta in un elegante costume intero che mette in risalto le sue forme seducenti e super sensuali Piogge di likes e di commenti pieni zeppi di complimenti hanno letteralmente riempito la pagina della Orlando Effettivamente è davvero molto bella, ed è normale che lo scatto in questione faccia girare la testa ai followers Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video